ciao a tutti amici di film e moro sono davide belardo di da room view e oggi sono qui per parlarvi dell'ultimo diabolica diaboliche chi sei l'ultimo titolo della trilogia che chiude la trilogia di diaboliche dei manetti bros che arriva grazie alla eagle picture anche in versione collector's edition come per i due precedenti capitoli quindi con fumetto blu ray combo dvd e anche una card da collezione devo dire che è un bel box box set come gli altri che vi ho presentato sul canale sul mio canale ufficiale ovvero quello di daruma all'interno troviamo come dicevamo la amarai di colore nero quindi proprio in linea con diaboliche con all'interno ovviamente la card da collezione che è questa qui c'è anche una citazione di ginkgo nella parte posteriore e i due dischi disco dvd e disco blu ray quindi per accontentare anche chi vuole il fumetto ma non è passato all'alta definizione e poi c'è anche il disco blu ray devo dire che si vede benissimo il blu ray ovviamente audio italiano 5.1 master audio e ci sono anche un paio di extra un quarto d'ora di making off sulla realizzazione del film e poi un paio di minuti sulla realizzazione degli effetti speciali all'interno come dicevamo c'è anche il fumetto che viene presentato anche con queste due card per dare lo stesso spessore della marai perché altrimenti il fumetto sarebbe più più che spessore la stessa lunghezza e altrimenti ovviamente il fumetto è di dimensioni ridurre e abbiamo proprio il diabolic chi sei quindi il fumetto che dà vita al film è una versione come sempre esclusiva per questa edizione quindi la non la trovate disponibile in vendita ma è ovviamente la riproduzione in tutto e per tutto del numero 5 di diabolic ufficiale per questo video come sempre è tutto se vi fa piacere iscrivetevi a questo canale non solo per guardare gli unboxing ma per restare sempre aggiornati sull'uscita dei film che la firme more vi mette a disposizione su questo canale se soprattutto vi è piaciuto questo video mettete un bel like se invece volete questa edizione ma ne oppure volete un'edizione ancora più corposa con altri altri gadget a tema diabolic io vi consiglio di andare sullo store di film e more probabilmente il team di film e more vi metterà anche il link in descrizione dove troverete la versione esclusiva per lo store di film e more che è lo store ufficiale della eagle picture per questo video è tutto noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti